Musica Ma è partita la volata col campione d'Europa in prima posizione, attenzione, Ria Buschenko davanti, attenzione, gli ultimi metri, è Ria Buschenko! Ria Buschenko, una volata straordinaria e questa maglia, insomma, si festeggia subito. Prima gara in questa maglia, subito vittoria. Sono molto contento, bravi ragazzi, bravi alla mia squadra. Sono contento. Una dedica ci vuole per questa prima vittoria con la maglia di campione europeo? Sì, dedica della mia direttore sportiva, Levano Locatelli.